Io vi sto dando il mio cuore. E voi cosa vedate? Eh? Apparecchio per? Per prendersi del tempo come, quando, dove, con chi ci piace ci perdere del tempo. Per uscire da certi meccanismi che ti impungono sempre di non avere tempo. Invece parare davvero a condividere il tempo. Non usare il tempo. Dentro tutto è fermo. L'unica cosa viva sono io. E invece fuori tutto si muove ed è velocissimo. A me piacerebbe un apparecchio per permettere in un certo senso di una mobilità maggiore dei progetti. Lo togli, immagino, immagino che lo apri. Quindi vorrei un apparecchio di mobilità. Io vorrei un apparecchio che permetta in questo paese di riuscire a realizzare le idee prima che invecchino. Non prima che invecchino le persone ma prima che invecchino le idee. Poi prendendo il buon vecchio Polinice un apparecchio per trasformare l'indignazione in azione. In azione. In azione. In azione. In azione. Grazie a tutti.